Monticelli, ieri si è andata avanti fino a tardanotte, però alla fine, insomma, i ribelli hanno avuto ragione. Ma io non direi più ormai ribelli, perché credo che la nostra battaglia fatta è stata poi capita da tutti, in quanto non parlavamo solamente di una variazione di bilancio, un provvedimento di regge che guardava solamente a una così importante istituzione, ma che guardava un po' a tutta la realtà abruzzese. Quanto è stata difficile questa battaglia politica? È stata difficile dall'11 agosto, quando abbiamo deciso io, il collega Gerosonimo Olivieri, di fermarci un attimo. Ne abbiamo passate anche, non era stato capito, naturalmente anche il mio partito ha avuto da ridire, però poi con le discussioni fatte, con il fatto che ci siamo incontrati più volte, e devo dire la soddisfazione di risera di finanziare l'ISASI, ma anche di finanziare tutte quelle leggi regionali, mi faccio riferimento al Michetti, al Lanciano, a tante manifestazioni, e poi anche al Braga, di cui abbiamo voluto da 90 mila, portati poi a 150 mila euro, per il mantenimento fino all'arrivo della statalizzazione del 2017. Qui è stato fatto un ottimo lavoro nelle commissioni, anche con il supporto delle minoranze, voglio ringraziare anche loro, il Movimento 5SL, il centro-destra, e adesso ci apprezziamo a fare questo regolamento, che è dettato dalla 46 del 2014, di cui si chiede un osservatorio sulla cultura, un piano triennale sulla cultura, e crea un movimento notevole di lavoro, di service, palchisti, strumentisti, tornisti, chi anche stampa il manifesto, c'è un giro incredibile, e noi dobbiamo fare molta attenzione. E ripeto, le stiamo incontrando il venerdì, e ogni venerdì facciamo questo focus sulla cultura, e speriamo nel mese di dicembre e gennaio di fare una a due giorni degli stati generali della cultura, per raccogliere tante esperienze bellissime che sono in Abruzzo.